Buon suor madame Come la vede? Con grillo? Con grillo? A che punto siamo? Ah si si, allora guarda il nostro berri Ciao ciao La madame è il cavaliere di San Silvestre E' sufficiente Don Luigi Lei è candidato? Alla presidenza americana Ha 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 Ma che può fare? Ma bene così? Bellissimo Ma non so Sai ho scelto un fatto quotidiano Ma è stato rieletto lei o no? Se io vuole no, ma io non mi sono neanche presentato Ah bene, l'ha fatto bene Con i grillini era dura 95 anni Però che il cielo la mantenga Ecco che E anche la macchina fotografica Cominciamo a vedere la gente importante La signora ha sempre lo stesso marido E sempre lo stesso cappello Esattamente, bravo Il comune va bene Andavano meglio le banche Non prende la mortadella? E poi quando faremo una scena La dobbiamo invitare indipendentemente dalle mortadelle Perché ormai voglio diventare Un cineasta La dobbiamo invitare indipendentemente dalle mortadelle La dobbiamo invitare indipendentemente dalle mortadelle